IZONS Eeeh Eeeh bengalinos eeeh eeeh I kill I'm the best I'm smirred I'm smirred completamente I'm very smirred but the pigeons the pigeons is eeeh isfranco what's up guys qui vi porto la build rivisitata della nuovissima mitraglietta che vi farà sgrotolare per tutta l'estate quindi diu diu leoni miei pronti partenza via andiamo subito a vedere la mitraglietta con la precisione dei colpi migliore del warzone con la build nuova del nazionale ovviamente stiamo parlando della reclaimer la mitraglietta con la season 5 ragazzacci vi dico già una roba che ho notato nel caso fatemi sapere anche voi qua sotto nei commenti io inizialmente l'ho utilizzata senza mirino ok soltanto che mi sono accorto che mettendo il mirino mi sembra che i colpi entrino meglio nel senso che quando lo usavo senza sembrava che qualche colpo andava a farsi a farsi benedire quindi ho inserito il il mirino e questa cosa l'ho risolta quindi provatela fatemi sapere anche voi di questa cosa perché è interessante vediamo se sono matto io non penso cioè un po' lo sono ma non fino a questo punto comunque sia tutto uno dei miei ho lavorato un po' meno sul movement senza contare che vabbè il movement è ancora overpower ma più che altro per la precisione dei colpi raga volendo si può sparare anche lontano che tra l'altro raga questa squadra mi traietta con la portata danno più elevata perché con questa billa arriva praticamente a 20 metri di portata prima del primo drop di danni quindi che ve lo dico a fa' primo cesorio calcio fss guardian modello nidr 2023 canna lunga che porta la portata ben oltre i 20 metri quindi inutile che vi dica questa bill la potete accompagnare anche allo sniper tranquillamente perché è sia da corto ma sia anche da medio raggio silenziatore franco master impugnatura paracord e la bill è completata del nazional rivisitata raga ovviamente fatemi sapere qua sotto nei commenti almeno quello che vi ho appena detto così vediamo se era un problema di tutti ora un problema solo mio fatemi sapere qua sotto nei commenti noi belli miei ci vediamo al prossimo video porchio bella ragazza esorbitante se succede un bug è chiaramente un bug se succede una roba del genere però non penso proprio perché non le sto vedendo in giro se era buggata c'era una fulle lobby probabilmente vabbè zio dai contro padre quel coglione ooooooo lascia sta ripando grazie Mirko grazie Mirko mio quanto è forte il side franco glielo sto facendo mangiare tutto a tutti è un po' esagerato questa cosa rilassati però eh c'è qualcosa ma che cazzo di lingua è? si dia una calmata faccio cagare borco il miserio che scorreggia? eh mi scorreggiano qui come ti scorreggiano? mi hanno visto qua che mi sparo là dai dai in due da me in due da me come in due da te oh siamo pazzi come ya 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 come you want me come you want me come you want me ma lei è british ma lei è padre di lingua Sirflex grazie Kiko oddio ma se vuole picchiarmi uggilo tu sei uggile one knock in the tenda in front of you in front of you in front of you killed another one another one it's 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 angry it's angry ma non angry fame angry incazzato sull'antenna it's one knock one knock one knock stai zitto stai zitto shut up shut up he let one in the air in the air two 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 enemies on buster one knock buster one knock buster another one in front of you in front of you in the muretto in the muretto over the muretto another one in front of me a kill a kill confirm confirm in the house second floor one one of me a kill in on the roof on the roof on the roof on the roof on the rooftop the outress outress in the in the little house in the little house is is in the air okay one mazi one enemies one croc faster save me save me faster Pasta, un altro, un altro sul... ... sul... ... sul... in il... in il... Rooftop. 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 Sento a... Sento a... Chiudere il, chiudere... Ehm, is very fast, this guy, is very fast. Is immortal, is immortal. Amé, amm... C'ho chiudere, ehm... Ah un piano terra! Un piano terra! un piano terra il piano terra flex gg good games gg another one in front of me on the on the roof the prisons it's a laureato se uni univocamente pastor in front of you it's another one another one it's immortal immortal but another one another one and the lacrime please sugar the lacrime music chelacrime in inglese pasta a sugar the lacrimes the lacrimes the lacrimes no e piangere don't cry don't cry e piangere lacrime dico si c'è lacrime si opera city city delle capre best player in the uganda credo i know i know i know i'm smirred i'm smirred completamente i'm very smirred but the pigeons the pigeon in is is franco o paolo i i i don't know i am going i'm going i'm going in the in the sotterraneo but there is a one muppets sure i'm d'accordo ah the 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 vendetta the the revenge the revenge the revenge the revenge of the nazional another in the rooftop on prison eh i'm veramente troppo forte very 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 strong nazional very strong grazie job l'onest grazie amico mio i'm very strong bengalino bengalino skilled another one another one buy the money come compro compro i danari buy the money load out load out load out another load out another load out for for you another load out load out for 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 tutti another pazzo in front of me in the in the gas in the gas in the gas the faster one show one show one show kill it kill it one shot win win we are the best where the fucking best we are the fucking best where is my contract where is my contract where is my contract where is my contract no crash anche tu sei crashato crash at the bannet full bannet full bannet full bannet full bannet full in you